L'estate 2006 volge a termine e tanti bambini e ragazzi si preparano ad affrontare un altro lungo periodo scolastico, ma quando si parla di scuola torna vivo anche il problema dei libri scolastici e di conseguenza del caro libro. A Roseto degli Abruzzi il Movimento Giovanile Azione Studentesca, per contrastare questo fenomeno che sta dilagando all'interno della nostra nazione e non solo, ha avviato un progetto denominato Mercatino dei Libri Usati, che è giunto quest'anno alla sua terza edizione. L'iniziativa, che ha avuto inizio il 18 luglio, ha permesso a molti rossetani di acquistare dei libri scolastici senza alleggerire troppo il portafoglio, visto l'eccessivo e l'evitare dei prezzi. Il Mercatino dei Libri Usati, sito in via latini numero 66 a Roseto degli Abruzzi, nei pressi del mercato coperto, resterà aperto sino alla fine del mese di settembre.